Medicina? Ti stai preparando per il test d'ingresso? Seguimi, ho qualcosa per te! In questo mio canale, qui matematica, ho già pubblicato video su quiz di logica e di matematica. Anche se non sono pensati specificamente per medicina, possono esserti utili per un approfondimento. Guarda nella descrizione, trovi l'indice di tutti i video. E se trovi che questo indice ti è utile, metti il like al video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Arriveranno anche video specifici per medicina. Ciao!